salve la guerra in ucraina è ormai arrivata al suo terzo anno adesso quali sono i tuoi pensieri a riguardo guerra qualcuno ha dichiarato guerra si tratta solo di due o tre giorni di direi operazione militare speciale e tutto sta andando secondo i piani cosa hai da dire tu figlia figlia dici di nuovo cosa ti hanno insegnato a scuola cosa farai tu all'ucraina chiede alla figlia distruggerla davvero una brava bambina cosa potremmo fare altrimenti dice la signora dobbiamo proteggere la russia dai dai conduttori in bombas non ci hanno dato nessun'altra scelta che invadere l'ucraina distruggere dozzine di città e uccidere centinaia di migliaia di ucraini includendo anche qualche speakers russo ma se non l'avessimo fatto poteva andare molto peggio potrebbero essere stati i soldati della nato noi non abbiamo ancora neanche iniziato dice questo signore se iniziamo a fare le cose seriamente a combattere seriamente beh allora notare il cartello che dice sì uomo muori per chi tu sai chi ascoltami mio marito è un eroe ha deciso di difendere la sua madre patria so in questo modo è andato a combattere la nato come beh uccidendo gli ucraini in ucraina naturalmente ma quei nazisti senza vergogna lo hanno fatto fuori è ok mio figlio crescerà presto e vendicherà suo padre questi sono quelli un po più esaltati l'ucraina è solo l'inizio we can do it again mentre l'occidente si succhia il pollice noi raggiungeremo berlino mi scusi signora qual è la sua opinione in questa guerra è veramente veramente pessima questo sorprendente lei è la prima persona che dice qualcosa contro la guerra lo sai qualche persona ancora non si ricorda gli orrori della guerra ma quasi tutti i russi vogliono solo la pace e capiscono che iniziare la guerra contro l'ucraina è stato un grosso errore beh ormai visto che abbiamo iniziato dobbiamo uccidere quei maledetti cococli allora salve amici e amiche ho iniziato con questo classico video di free oins che è un genio che produce questi video ve li consiglio passo il link in descrizione sono molto ironici e ve li ho già passati altre volte quando per esempio se vi ricordate quello sulla cosiddetta redline davvero bravo allora visto che quando la vecchietta nel video ha parlato dei coclos sono andato a vedere di cosa stesse parlando e i coclos sono un modo come devo dire per insultare gli ucraini perché in passato utilizzavano questi ciuffetti è un po' il nostro equivalente di capelloni non so se avete presente per esempio qualche anno fa tipo gli svizzeri che tornavano gli emigrati italiani svizzere che tornavano con questi capelli strani ecco un po' l'equivalente di questi ciuffetti quindi coclos vuol dire cocol vuol dire capellone una cosa del genere c'è proprio l'enciclopedia di questo termine l'etimologia del termine insomma va bene iniziamo allora intanto benvenuti come sempre prima di iniziare se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un mi piace sono due gesti gratuiti qui sotto il video trovate i pulsantini per farlo aiuta tantissimo il canale a crescere allora continuiamo sulla scia della televisione russa perché questa parodia fondamentalmente prende in giro i zeta blogger cioè quelli che intervistano le persone in russia e danno queste risposte surreali però come sapete visto che spesso la porto sul mio canale la televisione russa è una fonte ricchissima di ironia satira e quant'altro per esempio questa apparentemente non sembrerebbe niente di strano è un zeta blogger che fa la sua propaganda davanti a un mig 29 ok sta decantando le doti del mig 29 questa è una versione s o successiva geniale vero fa paura ora c'è solo un piccolo dettaglio che ci stanno mostrando la versione navale del mig 29 ok il problema è che i russi non hanno portaerei attualmente quindi non serve a niente tant'è andiamo avanti vi faccio vedere anche questa foto fra l'altro i commenti in questi giorni sono sensazionali tipo luna luna ksharkisky questo utente che segue ogni tanto commenta quando ti arriva a casa globo ma tu non avevi ordinato le patate ora perché vi sto mostrando questa foto per un piccolo dettaglio vi faccio vedere qui notato il tacco bello alto vero si va bene ollo allora passiamo a notizie un po' più serie allora ieri avevo parlato del discorso riguardo i soldati nordcoreani che l'intelligence sudcoreana ha sgamato venire trasportati dalla Corea del Nord alla Russia e secondo molte fonti attualmente si trovano già in Ucraina ora di questo se ne continuerà a parlare nei prossimi giorni perché sono notizie che stanno ricevendo sempre conferme e vengono ribalzate da diversi organi di stampa e anche agenzie governative adesso entreremo nel dettaglio ho letto un commento che in cui mi si dice di verificare meglio questa notizia perché non è ancora confermata ma adesso vedremo appunto di cosa sta succedendo quindi intanto questo è un aggiornamento dove viene detto che l'intelligence sudcoreana ha identificato attraverso il software di riconoscimento facciale uno degli ufficiali responsabili per i lanci di missili balistici lo vediamo meglio vedete questo individuo che si vede in questa foto e queste foto vecchie era stato visto insieme a ciccio kim presso un sito di sviluppo di missili balistici nella foto a sinistra pare che sia proprio lui a trovarsi in ucraina ad assistere al lancio di missili nordcoreani verso l'ucraina ora il fatto che la corea del nord stia fornendo armi alla russia munizioni per artiglieria missili balistici è un dato di fatto vuol dire è incontrovertibile questo ormai avviene da mesi ci sono le prove voglio dire dei triti che vengono analizzati e raccolti comunque questa notizia è stata la prima la fonte che posso citare è stata confermata da NHK World che è l'equivalente della Rai in Giappone è una grossa compagnia media che fa sia televisione che radio e giornalismo e appunto riportano questa notizia NHK è l'equivalente della CNN della Rai insomma è una delle principali emittenti giapponesi quindi questa è la situazione poi fra l'altro in questi giorni il web è scatenato tipo in questa meme questi cappelli sono finti li hanno pimpati con la comunque si dice quando la Russia vuole pagarti solo con le patate perché di fatto attualmente il rublo vale tipo niente penso che la carta igienica sia più quotata assolutamente oppure quest'altra meme che è falsa falsa notizia dice breaking news l'Ucraina sviluppa un enorme magnete dopo che ha visto gli ufficiali nordcoreani in battaglia e di fatto tutte queste medaglie sarebbero un grosso problema comunque mi collego anche a quello che viene detto in questo post su X da Quintus Popadeus Silo che dice ma quindi riassumendo se per quattro armi degli anni 80 che stiamo dando all'Ucraina i ciucciaputin dicono che la Russia sta combattendo contro l'intera Nato allora adesso che al fronte ci sono soldati nordcoreani che usano armi iraniane e tecnologia cinese l'Ucraina sta combattendo contro tutti i BRICS e il bello è che nonostante questo i russi non riescono nemmeno a riprendersi il Kursk la regione di Kursk e un po' condivido questo questo pensiero comunque sì ora le notizie ripeto stanno continuando ad arrivare e ci sono già diverse reazioni governative che riguardano i soldati nordcoreani in Ucraina gli americani sono molto preoccupati riguardo questi rapporti ok questo è stato annunciato da Sean Sabet che è il portavoce per i servizi di sicurezza nazionali degli Stati Uniti insomma dicono che attualmente dato che non è possibile confermare direttamente ancora nel senso che non ci sono le persone fisiche per poterlo confermare si tratta solo di osservazioni satellitari attualmente e di qualche video che sta circolando ma se questa cosa è vera significa davvero un pericoloso sviluppo per la guerra russa contro l'Ucraina questo è il portavoce del servizio di sicurezza nazionale americano a dirlo comunque Zelensky oggi ha parlato chiaro ok questo è il suo intervento oggi al governo ve lo traduco in tempo reale abbassa un po' il volume se no così non dà fastidio allora dice la Corea del Nord la famiglia di Kim che ha praticamente 20 milioni di persone in schiavitù la nostra intelligenza ha registrato non solo che stanno trasferendo armi dalla Corea del Nord alla Russia ma anche che stanno trasferendo persone queste persone sono mercenari lavoratori per le industrie che che la Russia prende piuttosto che i cittadini è personale per mercenari personale per l'esercito russo e questo è già un fatto dice Zelensky è un fatto che questo è ripeto scusate è un fatto che questa è la seconda nazione in guerra contro l'Ucraina a fianco della Russia tutti quanti sembrano che anche insieme l'Iran sta aiutando tutti quanti vedono che anche l'Iran sta aiutando il regime di Putin questo è assodato insieme alla cooperazione della Cina con la Russia fra l'altro dice Zelensky Pijing sta facendo il doppio gioco letteralmente non prende seriamente non fa non fa passi decisivi ed effettivi per fermare Putin per fermare l'aggressione e la Russia è la violazione della Russia di tutte le carte dell'ONU e noi dobbiamo dirlo seriamente adesso all'Ucraina e tutti i suoi partner internazionali che se noi non facciamo scudo comune fronte comune adesso Putin avrà tempo per rendere più forte se stesso nel prossimo anno una forza che Putin potrà accumulare che potrebbe impedire qualsiasi azione diplomatica in futuro per sempre dice Zelensky la Russia deve perdere la guerra contro l'Ucraina e non bloccarla questo non è un discorso di scambiare che riguarda scambiare territori o svendere la sovranità nazionale dell'Ucraina noi dobbiamo realizzare il nostro piano quindi questa è la reazione al suo discorso fra l'altro passo questi applausi anche per dire che insomma lo ripeto Zelensky non è un dittatore non è quello che la propaganda russa vuole far passare e lì in periodo di guerra a portare avanti il suo mandato forzatamente perché durante la guerra non è che puoi fare elezioni facilmente allora andiamo avanti parliamo un attimo della situazione al fronte aggiornata a ieri non ci sono buone notizie ve lo dico allora partiamo intanto dalla regione di Kurakove dove ci sono stati i più significativi sviluppi allora come vedete da fra il 18 e il 19 c'è stata un'avanzata da parte russa e di qualche chilometro in più in più parti vedete la zona contesa si è espansa e così anche le zone rosse che significano la presenza di soldati russi di reparti russi quindi come vedete stanno cercando di chiudere questa area di cui abbiamo parlato spesso quest'area qui e quanto meno ecco il movimento che vediamo in grafica perché questa è solo ripeto una rappresentazione grafica circa le posizioni geolocalizzate e individuate dei soldati russi questa cosa significa quanto meno che non c'è una chiusura al momento cioè non stanno chiudendo direttamente in questo modo ma stanno spingendo anche in questo modo in questo modo potrebbero se ci sono forse ucraine in quest'area potranno uscirse da cura cura kifka bisogna vedere cosa accadrà nei prossimi giorni ora vi mostro i progressi da parte russa prima di affrontare la questione non ci sono progressi al momento nella zona di vugledar ma tutto sembra che si stia concentrando qui in quest'area ripeto verso kurakove kurakove ha una valenza più strategica rispetto a pokrovsk anche perché in direzione di pokrovsk da parte russa hanno ricevuto belle batoste anche se hanno rinforzato molto le loro posizioni portando avanti moltissimi reparti comunque la resistenza ucraina qui sta facendo un ottimo lavoro per respingere gli assalti continui altri progressi li vediamo nella zona di toresk che i combattimenti continuano in quest'area c'è la maggiore intensità attualmente dei combattimenti e avviene letteralmente casa per casa arrivano video di truppe in contatto che si vede che praticamente utilizzano i fucili a poche decine di metri di distanza gli uni degli altri allora altri progressi da parte russa su russa li vediamo nella zona di Chassiviar dove sono riusciti a oltrepassare il fiume questo è successo tre giorni fa in tre punti qui qui e qui hanno superato questo incrocio e stanno spingendo con l'aiuto di carri armati ora lo vedremo poi con la mappa di Maya Cosco che ci mostra meglio le geolocalizzazioni altri progressi e vediamo qui nella zona di Senkove dove ieri vi riportavo che le forze ucraine avevano rastrellato casa per casa quest'area c'erano dei video e delle operazioni dove si vede che hanno respinto un attacco russo qui ora Deep State oggi ha giornato a ieri quindi al 19 vi mostro la data che non si vede scusate quindi non è questa questo aggiornamento della posizione della mappa non è a oggi ma a ieri quindi ci mostra fra ieri e oggi il 15 il 16 il 17 il 18 vedete che c'è la segnalazione di un attacco respinto in quest'area e il 19 vediamo questo sviluppo quindi domani cercherò di riportare maggiori notizie a riguardo per vedere cosa sta succedendo in questo villaggio data che ripeto il video di ieri che vi ho mostrato segnalava chiaramente la presenza di soldati ucraini in tutta quest'area e una presa di posizione da parte loro altri progressi sono invece nella zona di Kupiask ok perché vi parlo di Kupiask perché ci sono dei rapporti che arrivano da qui dove c'è un progresso in questa zona di fitta boscaglia o foresta quello che è c'è un avanzamento da parte russa ok poi altri progressi non ci sono sia per quanto riguarda l'area di Kharkiv e Voynchask che per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla mappa di Deep State nella regione di Kursk ok ma andiamo a vedere sulla mappa di Mayakosk che segnala appunto tutti i video che arrivano via Telegram e X e altri altri organi di informazione come vedete se non ci sono stati progressi nella zona di Vugledar è perché c'è stata ormai la chiamo demolizione forzata obbligata di mezzi russi di mezzi russi quindi ok tutti questi sono mezzi che sono stati distrutti il 17 il 18 ok questi sono successi due giorni fa tre giorni fa nella zona di Kurakove guardate la quantità di video e di report di ieri e l'altro ieri 18 19 18 19 18 tutti questi sono carri e mezzi distrutti ora bisogna sempre ricordare che per uno di questi mezzi distrutti ci viaggiano su uno di questi mezzi distrutti in genere ci viaggiano dalle 6 alle 10 persone sopra quindi vi da un'idea di quante persone sono cadute solo in quest'area da parte ucraina ieri c'è stata un'azione di artiglieria in questa zona qui dove appunto vediamo come c'è differenza nel rapporto della mappa di Maya Cosk con Deep State vedete qui ieri segnalavano la posizione di alcuni soldati russi qui e c'è già un aggiornamento vedete sullo stesso caseggiato di un'azione di artiglieria ieri quindi bisogna vedere qui c'è un'azione di un caro armato russo altre azioni di artiglieria e poi come vedete nella direttiva verso Pokrovsk c'è la consueta azione di combattimenti con diversi video che parlano di quello che sta succedendo spostandoci invece nella zona di Toresk come vedete tutte queste iconcine sono truppe in contatto queste sono i blu sono le truppe in contatto ucraine che ogni tanto mandano dei video dei combattimenti casa per casa queste sono azioni droniche artiglieria russa ora se questa è l'artiglieria russa vedete il 18 questa è stata l'azione di artiglieria russa il 18 due giorni fa vedete come colpisce quest'area se hanno colpito quest'area è presumibile pensare che qui ci sono truppe ucraine quindi questo bisogna dirlo nel senso la parte rossa e gialla non significa necessariamente che tutta quest'area è controllata dai russi vedete anche qui il 18 artiglieria guardate quanto è in profondità questo colpo dell'artiglieria russo è questo vedete cioè i combattimenti attualmente si stanno svolgendo in tutta in tutta quest'area quindi l'avanzamento della zona rossa non significa che è controllata dai russi necessariamente ma che l'area è ancora fortemente contesa quindi andiamo avanti vediamo nella zona di chassiviar come vi ho detto ci sono stati tre punti di sfondamento e questo per esempio è un carro russo che sta operando all'interno del caseggiato nella periferia e vedete che hanno superato il fiume stessa cosa qui qui addirittura un soldato russo ha deciso di piazzare una bandiera su questo edificio come se avesse conquistato la luna in effetti se ci hanno messo tipo due anni per superare questo fiume è una bella conquista ora andiamo avanti c'è ancora report di combattimenti lungo il fronte più a nord e vi porto per esempio nella zona di cui vi parlavo dove c'erano i combattimenti segnalati ieri questo è il villaggio ieri vi ho mostrato il video questo villaggio qui e vedete come tutti questi report in rosso il 19 il 18 il 20 questo è stamattina il 19 questi sono tutti mezzi russi distrutti questo è un operatore dronico che sgancia le bombette sulle case quindi possiamo dire secondo almeno quanto viene riportato da Mayagos che ha posizionato le iconcine in base ai video che ha visto e che attualmente la zona qui è contesa come questa ma a nord c'è la presenza di truppe russe da queste zone adesso ne parlo un attimo prendo l'ultimo punto ecco in direzione in questa zona dove viene segnalata l'avanzata russa la riporto anche su Deep State verso Kupiansk da Kupiansk arriva per esempio questo video anzi questo è da Kura Kove torniamo un attimo indietro quindi questo video arriva da un soldato russo questo è un blogger russo a trasmetterlo e questo soldato ci trasmette questa questo video dalla zona di Kura Kove un po' più a sud poi fra poco parlerò anche della zona nord quindi da quest'area siamo qui siamo a sud-est del fronte qui questo video in questo video il soldato russo racconta che sono mandati al macello letteralmente per dirlo senza opemismi senza girarci attorno questa è la testimonianza del soldato russo nella zona di Kura Kove 174esimo battaglione di ricognizione e 150esima divisione prima di questo facevo parte del decimo brigata delle operazioni speciali diciamo così coscritto questo è stato arrollato a forza sono venuto qui il 22 settembre durante la mobilitazione e dice che è stato decorato perché ha avuto una ferita di guerra e siamo stati trasferiti dice e siamo stati trasferiti al 102esimo reggimento senza che ovviamente ci dicessero nulla senza che sapessimo niente alle 9 del mattino ci hanno detto di prendere le nostre cose e muoverci abbiamo preso il telefono e i documenti e ci siamo mossi ancora poi ci ha minacciato il nostro comandante lì dice sotto gli ordini dei comandanti sotto le minacce trez ci hanno detto andate nel tritacarne le parole sue che ha detto mandateci mandateli mandate la carne avanti la carne da cannone letteralmente e ci hanno praticamente nullificato cioè come se non valessimo nulla ci hanno messo su un bmp un mezzo da trasporto blindato e mandato alla zona di curacove curacava queste sono state le sue parole ci sono anche messaggi vocali dice tutto il battaglione di ricognizione è stato dismesso dice adesso siete ci hanno messo in cammino e ci hanno mandato avanti dice e si è messo il comandante sta continuando a parlare del comandante è diventato furioso perché ha detto l'intero battaglione si è rifiutato e a quel punto ha detto voi andrete avanti e morirete lo stesso e ha cominciato a disperdere tutti quanti in piccoli gruppi mandandoli avanti di cosa si è stato decorato gli chiede l'intervistatore dice medaglia al coraggio medaglia al coraggio George Cross per aver combattuto Marinivka e Bakhmut e adesso siamo tornati indietro a Marinivka qui continua a parlare di defezioni e del fatto che vengono costretti ad andare avanti e trattati come cani dice così infilati dentro BMP che sono questi mezzi a otto ruote e mandati avanti e non puoi contattare i tuoi vecchi compagni gli chiede no perché i nostri telefoni ci sono stati sequestrati così come i documenti poi parla sempre del centoduesimo dice nessuno è tornato indietro semplicemente dice sono stati mandati avanti come carne da cannone quindi se queste icone che vediamo significano qualcosa e probabilmente le possiamo ricondurre alle parole che ha usato questo soldato quando diceva ci mettono dentro i mezzi e poi i soldati spariscono non tornano indietro questo è un po' in linea questa testimonianza che vi ho portato è un po' in linea con quello che altre fonti dicono altre fonti russe dicono iniziano a vedersi dei segnali spesso ma questo ormai lo dico da mesi in cui i comandanti nelle retrovie cercano in tutti i modi di ottenere risultati a tutti i costi e non gli importa assolutamente nulla della vita dei loro uomini cioè pur di dare dei dei resoconti di progresso di conquista di territorio non gli importa nulla della vita dei loro uomini allora restiamo in tema sempre russo perché sono arrivati i video dall'area di Zaporizia di attacchi dronici tutta questa notte questa mattina questo lo riporta anche la mappa di Mayakosk vedete questo video è di ieri questa notte ieri sera per la precisione in cui appunto si vede che Zaporizia è stata colpita e non è stata colpita un'area militare di Zaporizia ma un centro commerciale la gente stava facendo la spesa ieri sera ed è piombato questo missile russo quindi queste sono le operazioni russe così a caso da parte ucraina c'è stato il tentativo di intercettare la solita ondata di droni vi passo questo video che è interessante che mostra un loro Mi 24 sparare a un drone e lo fa con i colpi della sua mitragliatrice con il cannoncino principale il cannoncino del Mi 24 è un 22 mm se non sbaglio che fa un suono caratteristico sentiamolo e poi prende il drone questo è un ottimo centro tra l'altro non so se è lo stesso video ma da un'altra prospettiva o un'altra azione proprio questo è il classico drone Shahed di derivazione almeno di produzione scusate iraniana e là dietro che c'è il Mi 24 che lo insegue e lo prende a cannonate questo è il Mi 24 fra l'altro gli ucraini continuano ad usare sia la primissima versione questa invece questa versione che vediamo in foto invece è la versione P che è quella un po' più non la primissima serie insomma però stiamo parlando sempre di un elicottero degli anni 70 la versione P è un po' più aggiornata a qualche miglioria che riguarda i filtri antipolvere antisabbia e servono anche per schermare i motori da eventuali manpad quindi per proteggerli e nascondere un po' le loro emissioni termiche e si distingue anche per il fatto che ha un cannoncino a doppia canna sul fianco mentre la versione precedente ha una mini Gatling posta sotto il muso quindi ecco Cupiasc ne ho parlato prima perché si segnala questa cosa scusate su su Deep State questa avanzata nella regione di Cupiasc perché proprio da qui vedete questa azione e la vediamo anche dalla mappa di Mayakos che dovrebbe esserci il video eccolo perché vedete queste azioni nella zona di Cupiasc sono state documentate e tutto il numero di questi mezzi distrutti è in questo almeno uno di questi video è questo lo zumo questo è un drone ucraino di ricognizione che sta coadiubando il tiro dell'artiglieria che si abbatterà su questa colonna russa e questi mezzi verranno distrutti ok e questi mezzi sono questi mezzi qui riportati in questo rapporto quindi questa è la situazione al fronte c'è un avanzata russa non ditemi che faccio rapporti controfattuali perché l'avanzata russa c'è ma come sempre ha il costo enorme di mezzi e uomini è una cosa che veramente non ha non ha precedenti nella storia una cosa del genere cioè neanche nella prima guerra mondiale anche nella seconda guerra mondiale erano più conservativi di così è assurdo questo non ha proprio senso da un punto di vista militare e questo è sintomatico da un punto che la dice lunga sulle gerarchie e sul metodo organizzativo russo attuale ora da parte ucraina c'è stata una risposta come al solito strategica perché cercano di colpire le infrastrutture e in poche parole è stata colpita una importante fabbrica di esplosivi qui è un'infrastruttura energetica fra l'altro poi si segnala anche un attacco un'esplosione a Berdyansk molto a sud questi video non ve li posso mostrare ma dice droni di ucraini droni ucraini hanno colpito la fabbrica di esplosivi a Zersinsk nella regione di Novogrod in Russia si segnalano sette impatti esplosioni riprese da ogni angolo e questo è il canale russo Astra che ha diffuso anche questa notizia ha parlato di attacchi a Zersinsk confermano gli attacchi a Zersinsk ma anche Nizkny è stato colpito vedremo nelle prossime ore cosa è stato colpito perché dobbiamo avere appunto le conferme ora parliamo un attimo della situazione meteo su cieli d'Europa e anche ucraini come sappiamo l'Italia è interessata da un ciclone che sta portando enormi precipitazioni questa è un po' l'evoluzione di questo ciclone che sta interessando la nostra penisola questo solo nelle ultime 12 ore ok vi mostro la situazione questo è il sito dell'aeronautica che mostra anche le temperature vedete in giallo comunque abbiamo abbiamo alcune aree in verde che sono più fredde 13 gradi 7 gradi in Val d'Aosta vabbè è chiaro che è montagna però in generale questo ciclone sta portando mal tempo ma comunque è aria calda che arriva dall'Africa in questo questo sito vi mostra ve lo passo in descrizione vi mostra il cambio delle temperature e il moto dei venti come vedete c'è una cosa che possiamo vedere che è molto interessante che c'è tutto un trasferimento di aria fredda che arriva dalla Siberia che interessa l'Ucraina poi molto passa attraverso attraverso il mare Geo e poi viene rinforzato da tutti dal sistema ciclonico che abbiamo adesso che interessa la nostra penisola che trasporta aria calda dall'Africa e questo ovviamente genera molta umidità e temporali faccio notare come sul nostro paese ci sono temperature nell'ordine dei 20 gradi fondamentalmente da Milano fino alla Sicilia 23 gradi in Sicilia Milano 20 ok su tutto Mediterraneo c'è una zona di aria calda molto molto calda guardate come sta cambiando invece la situazione in Ucraina 9 gradi 10 gradi 8 gradi nella zona dei combattimenti ci sono 7 gradi adesso 8 gradi questa è l'area del Donetsk vedete quindi questo è significativo 5 gradi in Crimea per intenderci 9 gradi la situazione sta cambiando rapidamente e quindi questo che vi sto dicendo prendetelo per quello che è ma le cose potrebbero cambiare rapidamente con l'abbassamento delle temperature per concludere passiamo ad altre notizie questa lasciamo perdere ecco questo mi ha fatto un po' non c'entra niente con il discorso Ucraina però ecco le signore le donne che mi seguono volevo chiedervi ma è possibile che è una borsa costi 32.000 dollari davvero e questa è appunto la moglie di Simwar che attraversava il suo bunker di fuga sotto casa con questa espressione mentre utilizzava la sua borsa è vero che quella borsa lì costa 32.000 dollari no perché stanno molti stanno trasmettendo questa notizia dicendo che insomma mentre i palestinesi muoiono di fame questa andava in giro con la borsa griffata non so se è vero questo lo chiedo quindi per oggi è tutto cari amici come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e vi auguro una buona domenica e un abbraccio alla prossima